In collaborazione con Ponte di Legno, Tonale, Val di Fiemme, Madonna di Campiglio, Pinzolo e Valendena. Cari amici telespettatori, benvenuti da Floriano Mobone al consueto appuntamento settimanale con S4, il Torcio di Sportador.tv, la multipiattaforma tv e web, tutta dedicata allo sport e al turismo, puntata questa tutta dedicata alla scoperta di tre importanti territori del Trentino, tre territori che sono veramente delle perle della nostra eccellenza e della nostra offerta, della nostra bellissima Italia. Ringraziamo gli amici che ci sono venuti a trovare qui nei nostri studi di Milano, Ruggero Ghezzi della Paganella, questa bellissima schiara, questo bellissimo territorio al centro del Trentino, lo conosciamo per l'offerta invernale, ora l'amico Ruggero, grazie di aver accettato il nostro invito, ci parlerà dell'offerta estiva di questo territorio. Poi da Trento, la bellissima Jennifer Perenzoni, direttrice marketing e comunicazione dell'amica Elda, la direttrice, tu segui la parte di comunicazione e marketing, dell'azienda per il turismo di Trento, Monte Bondone e della Valle dei Laghi, un territorio che in pochi chilometri racchiude l'offerta storica di Trento, l'offerta acquatica della Valle dei Laghi e la bellissima montagna del Monte Bondone. Grazie Jennifer di aver accettato il nostro invito. E poi da Madonna di Campiglio, Daniele Bertolini, Madonna di Campiglio con la nuova riforma del turismo in Trentino, ora comprende un grande territorio che parte dal Lago d'Idro, da Storo, arriva fino a Valle del Chiesi, due carri centrali, Varrendena, Pinzolo, fino a Madonna di Campiglio. Grazie Daniele di aver accettato il nostro invito. Quindi, come avete visto, tre importanti territori, territori della parte occidentale. Il Simo del Trentino è una farfalla, due territori, la parte orientale e la parte occidentale, divisi dall'Adige. E questa puntata è dedicata a tre territori molto vicini. Paganella, allora, l'uomo più fortunato perché, cari amici telespettatori, Ruggero Ghezzi vive alla Paganella, è il direttore della schiena della Paganella, questa montagna al centro del Trentino. Io lo chiamo l'uomo più fortunato perché uno che si alza al mattino, che riesce a vedersi, va in montagna, in cima alla Paganella, a due mila metri, si vede la Marmolada, il Bondone, poi tutta la Valle dell'Adige, si vede tutto il Lago di Galli, il Lago di Molveno, fino all'Appennino, la Pianuna Padana, i Dolomiti di Brenta, la Valle di Nonne, con i suoi meletti, la Valle d'Adige, Trento e Bolzano, a 360 gradi. C'è tutto quello che può fare stare in pace una persona, giusto? Sì, hai accennato che un panorama è fantastico, tant'è vero che la Paganella è al centro del Trentino, quindi questi sono gli scenari, non ho questa grande fortuna di andare tutte le mattine in cima alla Paganella a poter osservare questo scenario meraviglioso, però di fatto questo è, è un luogo spettacolare, unico, vicinissimo all'autostrada, quindi dietro l'angolo, dietro l'angolo di casa, però da questo angolo c'è una veduta incredibile, tant'è vero che i panorami della Paganella sono un punto di forza della Paganella. La Paganella poi ha tante altre cose, attività outdoor in primo luogo, partiamo subito con le immagini che vediamo, col bike, è una delle aree più attrezzate a livello europeo per quanto riguarda l'attività bike, abbiamo tre bike park con un unico bike pass, a partire dal versante di Fai della Paganella, la Andalo, poi l'Alpe di Pradel sopra Molveno, sono 80 chilometri di treggi dedicati, di cui 11 esclusivi. Abbiamo 8 nolleggi, 10 impianti che servono appunto i tracciati e 13 stazioni per quanto riguarda la ricarica, per quanto riguarda gli bike, quindi un'area particolarmente organizzata per questo tipo di attività, che poi corona anche un inizio di stagione legato sempre al ciclismo, questo è un caso su strada, con 10 giugno avremo la tappa d'Andalo, dalla prica d'Andalo del Giro d'Italia Under 23. Un bel, quello che organizza il CT, Davide Cassani. Esattamente, le due ruote sono protagoniste durante l'arco di tutta l'estate, primavera ed anche autunno sulla Paganella e sull'Altopiano in particolare. è un concentrato... Scusami Ruggero, adesso sono scioccato, guardate che immagini, cari amici telespettatori, qui dove siamo? Questo è il tracciato che scende dalla località Dosson o Dospela, dipende perché poi si sdoppia e arriva fino ad Andalo, il versante della Paganella, qui invece siamo sul versante di Molvenio che si intravede il lago, scendiamo da circa 1700 metri per arrivare ai 1300 dell'Altopiano di Pradel, qui siamo in riva al lago, anche attorno al lago di Molveno c'è un tracciato bike, i tracciati sono circa 400 chilometri sia pedonali che ciclabili sull'Altopiano della Paganella e collega tutto il versante della Paganella a Monte Gaza fino a Toblino e al lago di Garda, con un ritorno poi con il vicino. Perché ricordiamo, la Paganella, c'è Andalo, c'è la Paganella, Andalo e poi dall'altra parte le domomiti di Brenta e poi il lago di Molveno sotto. Quindi in pochi chilometri avete la offerta acquatica, la montagna da una parte e dall'altra, quindi siete vicini all'autostrada. Un bellissimo territorio, Andalo, fai della Paganella, il lago di Molveno, piccola presentazione e poi andremo nel dettaglio. La bellissima Jennifer ci parla di Trento. Trento, la capitale, una città dove si vive meglio, già questo è un attu vincente. Si vive bene in città, si vive bene in Trentino, grazie all'offerta turistica che avete di Trento, ma anche della Valle dei Laghi, questi bellissimi laghi di Toblino e non solo a pochi chilometri. Poi la montagna, il Bondone, che è il fulcro della vostra offerta turistica invernale ed estiva di questa primavera che è partita grazie a fine Covid, a diciamo la riapertura. Quindi un inizio di stagione buono, Jennifer. Sì, esattamente. Il nostro territorio è molto variegato perché abbiamo la città di Trento con l'offerta culturale, l'offerta museale che è molto importante e in pochi chilometri c'è la montagna, il Monte Bondone e la meravigliosa Valle dei Laghi con tutti questi specchi d'acqua. È un territorio che è prontissimo a ripartire. La primavera da sempre è la stagione della ripartenza, il sinonimo del risveglio. Speriamo davvero che questo possa essere una ripartenza per noi, per tutto il Trentino, per l'Italia e per il mondo intero in generale. La primavera è una bellissima stagione proprio per rivivere quella che è l'offerta culturale. Appunto Trento ha una storia millenaria di epoca romana, quindi è stata protagonista nel corso dei secoli di grandi eventi storici, pensiamo solo al concilio di Trento. Del 1530, se non sbaglio. Sì, è dal 1545 al 1563 ed è stato sicuramente un evento che ha proprio permesso lo sviluppo di questa città che è diventata alla fine una capitale europea a tutti gli effetti per l'epoca. È una città che ha un'offerta museale molto importante, solo per citare alcuni musei, cioè il Museo delle Scienze di Trento, il Castello del Buon Consiglio e moltissimi altri siti culturali che finalmente hanno riaperto le loro porte. Quindi speriamo in questa primavera, in questo mese di maggio e tutta l'estate poi di poter accogliere moltissimi visitatori ovviamente nella massima sicurezza possibile. Ma la primavera è anche la stagione per stare all'aria aperta, per goderlesi della natura e quindi abbiamo pensato proprio come azienda per il turismo ad un ricchissimo programma di trekking e visite guidate con accompagnature di territorio, sia a Trento che in Valle dei Laghi. Quindi chiunque desideri trascorrere qualche... Questo è il Museo della Scienza, uno dei più belli d'Italia e dei più visitati. Poi siete attraversati dall'Adige, che è il fiume che parte dalle Alpi e arriva fino al mare Adriatico, quindi avete tutto l'Adige, questo aciclabile, poi abbiamo visto le piazze più belle, Piazza Dante davanti alla stazione e la bellissima Piazza Duomo, giusto? Esattamente. E poi tanto trekking e da lì poi si parte al Bondone e alla Valle dei Laghi. Sì, chiunque voglia coniugare una visita alla città con anche dell'outdoor e dello sport lo può fare, perché appunto c'è questa bellissima aciclabile lungo il fiume Adige e tantissimi percorsi anche di trekking urbano oppure questi trekking guidati che offriamo proprio per tutto il mese di maggio. Tutte le informazioni, ecco chiunque voglia partecipare. Questo è il lago di Toblino che vediamo, giusto? Sì, perché ovviamente sono trekking anche che riguardano la Valle dei Laghi e torno a questi specchi d'acqua. È tutto su www.discovertrento.it, che è il nostro sito ufficiale e tutte le informazioni per partecipare sono pubblicate lì. Grazie Jennifer. E ora terzo territorio che scopriamo in questa puntata, le giudicarie centrali, la Valle del Chiesa e Madonna di Campiglio. Un unico territorio importante che parte dal lago d'Idro, risale il fiume Chiesa e il Sarca, due dei fiumi più pescosi, arriva fino alle Dolomiti di Brenta. Daniele Bertolini sei i rappresentanti di questo territorio che racchiude in pochi chilometri, abbiamo detto di Trento, che c'è la Valle dei Laghi e il Bondone, ma anche voi come acqua avete un'offerta acquatica importante con il lago d'Idro. i fiumi che sono i più pescosi e ricercati dagli appassionati di pesca per arrivare alle Dolomiti di Brenta con la perla delle Dolomiti e Madonna di Campiglio. Un'offerta importante, Daniele. Sì, Floriano, siamo reduci da una riforma del turismo che ha inglobato una parte del territorio più in valle, diciamo, della Valle del Chiesa e della Valle dei Giudicari Centrali, collegandola un po' da un punto di vista promozionale a quella che è un po' la perla della nostra parte di Trentino che è Madonna di Campiglio. La nostra offerta è quella di cercare di integrare un po' la parte, diciamo, invernale legata soprattutto al brand di Campiglio con una parte un po' più di turismo estivo, primaverile, autunnale, diciamo, un tutto l'anno che permette un po' all'intera zona di fare un'offerta un po' globale. Dicevi tu, noi abbiamo una proposta legata in particolar modo, come vedete nelle immagini, legata all'acqua, l'acqua che parte dal lago d'Idro, ma che risale sui fiumi, che sono il fiume Chiese, il fiume Sarca, e in questi anni abbiamo cercato un po' più di rilanciare quello che è un'offerta particolare, che è quella legata un po' al mondo della pesca e al fishing, una proposta sportiva che sta crescendo molto negli ultimi anni. Abbiamo avuto parecchie soddisfazioni nel genere. E questo riguardo, nella zona di Tione, a fine giugno faremo il primo Fly Fishing Festival, che è un evento realizzato in collaborazione con Riva de Garda, con l'entefiera, che ci permetterà di cercare di promuovere quello che è tutto il mondo della pesca e il mondo turistico legato un po' al nostro territorio. Nei altri mondi collegati abbiamo tutto quello che entra a far parte della strada del vino dei sapori. La nostra zona è legata un po' a Riva del Garda. Passando da Riva del Garda, arrivando fino a Madonna di Campiglio, c'è la strada che si chiama, intitolata Garda Dolomiti, che ci permette di offrire anche un'offerta legata... Dalle Dolomiti di Brenta arrivare al Garda. Perché lo ricordiamo, avete due fiumi ricchi d'acqua, che sono il Sarca, che nasce dalla Damello, nasce appunto dal Brenta, dalla Val Genova, eccolo qua, e scende e va sul lago di Garda. E poi avete il Chiese, che parte dal Carialto, e scende e va sul lago d'Idro. Quindi due dei laghi più belli che vediamo. Ma soprattutto della pesca, ci fa piacere ricordarlo, perché tutta pesca no kill. Quindi no kill vuol dire che non si uccide il pesce. Questo è importante dirlo. Nel frattempo queste stanno scorrendo le immagini appunto di Bondone, dalla parte a sud del vostro territorio. Il lago d'Idro, che è famoso appunto per l'offerta che vedete del deltaplano, grazie alle termiche del lago, che permette di fare il kitesurf e il windsurf. Quindi avete abbinate le attività acquatiche, le bellezze della montagna, questa valle stretta, con il teatro della Prima Guerra Mondiale. Giusto, quindi no kill la pesca. Questo è importante dirlo per gli amici ambientalisti, e non solo che... Certo, è una parte sportiva legata proprio alla pesca. Nella nostra zona siamo riusciti anche con la collaborazione dell'APT di Terme di Comano di fare anche dei campionati europei, campionati del mondo, delle manifestazioni di altissimo livello che hanno portato questo sport ad essere una parte importante di un'offerta turistica su cui puntiamo tantissimo anche in questo momento. Eccole qua, proprio bravo il nostro tecnico Thomas, il nostro regista, che ci fanno vedere le immagini di questo bellissimo territorio. Quindi abbiamo conosciuto Paganella, Trento, Bondone Valle dei Laghi e Madonna di Campina Valle del Chiese. Andiamo nel dettaglio. Ruggero, allora, abbiamo presentato il bike non solo, ma è importante, la gente che viene in vacanza vuole tornare in città con delle esperienze, no? Vuole tornare, ricordarsi le giornate belle che ha passato, e quindi avete studiato delle top experience, cioè delle esperienze che vanno da quello che proponete ai turisti. Sì, la vacanza deve essere completa, emozionante, deve avere una caratteristica che è quella che poi, tornando a casa, ti rimanga dentro il più possibile. E quindi l'offerta è ampia su questo tipo di esperienza. E cioè passiamo dall'attività, come abbiamo accennato prima, col bike e con le biciclette, ma anche le arrampicate, visto che abbiamo le ferrate importanti sullo Dolomiti di Brenta e anche sulla Paganella con la ferrata delle Aquile, i trekking con l'esperienza appunto del Brenta e della Paganella, ma in particolare abbiamo un'iniziativa che viene fatta da un gruppo di guide alpine che è legata, si chiama Brenta Open, ed è legata all'accessibilità della natura della montagna anche a coloro i quali hanno delle disabilità. Questa è un'esperienza che arricchisce molto sia chi frequenta le montagne e quindi partecipa, ma anche le guide stesse. È un'iniziativa che è nata qualche tempo fa ed ha sempre più successo, quindi anche il patrimonio comunitario delle Dolomiti di Brenta, definito tale dal 2009 dall'UNESCO, è comunitario proprio se tutti possono usufruire di questo bene naturale. E con queste iniziative riusciamo a dare anche questa possibilità che dà veramente una forte emozione, si porta a casa chi partecipa a un evento dimenticato. Ricordiamo che Andalo è tra la Paganella e le Dolomiti di Brenta. Si prende una cabinovia, si va in cima alla Paganella, si prende un'altra a Molveno, un'altra a Cabinovia, si fa nelle Dolomiti di Brenta. Abbiamo visto delle immagini, c'è un ponte sospeso, è un bellissimo rifugio. Abbiamo accennato prima il ponte sospeso, tra l'altro che la ferrata delle Aquile, sono due ponti tibetani, è una ferrata di recente costruzione, l'abbiamo realizzata circa 5-6 anni fa, che si affaccia totalmente sulla Valle dell'Adige. E' una delle ferrate accessibili a tutti. Qui siamo nel cuore del Brenta. Queste sono attività di parapendio, bike, canyoning, sul torrente Brist, del comune di Cavedago. Ecco, qui abbiamo il ponte tibetano della ferrata delle Aquile. Torniamo sul bike, la scala elicoidale, sempre per quanto riguarda l'arrampicata. Insomma, c'è di tutto e di più. Abbiamo alcune immagini del Brenta open. Abbiamo visto anche le attività tranquille del surf, del windsurf, che uno vuole stare tranquillo e che non vuole stare tranquille. Ma queste sono attività dinamiche impegnative. No, perché in effetti uno sta una settimana, 10 giorni in vacanza, vuole fare tutto, quindi due ore ogni cosa per seguire. Per poi riposarsi quando torna a casa. Ok, allora, arriva l'estate. Abbiamo presentato Trento, la Valle dei Laghi e il Bondone. Anche voi, attività estive importanti, no? Che tu e l'amica Elda avete già preparato. D'altro me, se a Trento è una delle città dove si vede meglio d'Italia, ci sarà un motivo. Sì, l'offerta turistica estiva è sempre molto accattivante. Ci auguriamo davvero che possa essere un'estate magica, un'estate importante. Il territorio, come dicevo prima, è un territorio molto variegato, quindi offre tante esperienze. Chiunque voglia o desideri, insomma, dopo questi lockdown, passare qualche giornata di vacanza, di relax e di benessere, può scegliere appunto il nostro territorio e spaziare da quello che è appunto una visita ad un museo, oppure una passeggiata, un aperitivo in città, oppure scegliere ecco l'outdoor, quindi noleggiare un e-bike, oppure una normalissima bicicletta. Può restare nei dintorni di Trento, oppure se appunto c'è qualche ciclo amatore più esperto, provare anche la mitica salita Charlie Gaul fino al Monte Bondone. Che abbiamo visto, che è quella salita, lo ricordiamo, Charlie Gaul, che poi ne parleremo, è quella salita appunto del Bondone, perché in 15 minuti da Trento si arriva al Bondone. Falle in macchina è facile, ma in bicicletta non deve essere tanto facile. Sì, Charlie Gaul nel 1956 compì quest'impresa importante, appunto in questa tappa caratterizzata insomma dal maltempo, riuscì proprio a conquistare la cima del Bondone in condizioni proibitive, e quindi è stato deciso a dedicare questa salita importante. Poi lo ricorderemo, quindi un'attività diversa. Io dico che il Trentino è veramente un bellissimo territorio, poi la Paganella, Trento e Campiglio, perché si riesce a racchiudere in pochi chilometri, senza muoversi troppo, offrendo il meglio di quello che è l'offerta turistica. Chi ama l'acqua dei laghi, chi ama la montagna del Bondone, parlando di Trento, ma come la Paganella. Insomma, un'estate diversa dopo mesi di lockdown, dopo mesi di gente che non è andata a sciare, ricordiamo questa pagina tragica, poi l'amico Daniele ce ne parlerà, che presiede un consorzio scistico, c'è voglia proprio di queste cose. Voi in pochi chilometri richiudete tutto. Sì, c'è poi tutta l'offerta di trekking, di camminate, la possibilità anche di provare qualche sport adrenalinico come il deltaplano sul Monte Bondone, e poi c'è tutta la parte invece degli sport d'acqua, il wakeboard, windsurf, piuttosto che la canoa in Valle dei Laghi, così come le passeggiate in mezzo ai vignetti, perché ricordiamo che la Valle dei Laghi è anche molto conosciuta. C'è il vino buono, di vino ziola, giusto? Esatto. Sì, e si beve, si mangia bene. Un inverno difficile, abbiamo detto. Tu sei presidente anche di un consorzio scistico, Bolbeno, che d'inverno è una grande offerta per la Valle del Chiesa, per giudicare, e non solo, perché non so quanti bambini fate sciare, siete veramente bravi, e questa offerta invernale si tramuta poi d'estate. Sì, hanno fatto una media di circa 800.000 bambini all'anno che fanno i corsi di sci, e quest'anno purtroppo non è stato possibile, si è aperto, gli impianti si sono stati aperti soprattutto per far sciare gli sci club e per fare attività agonistica, però speriamo che questa stagione sia finita, è stata una stagione complicata, però dovrebbe essere passata, cerchiamo di fare in modo che le prossime siano organizzate al meglio per poter andare a riprendere un po' tutta l'attività. Come del resto, anche l'estate, credo che dovremo utilizzare un po' tutte le normative che abbiamo messo insieme, tutto quello che siamo riusciti a realizzare per far sì che i turisti trovano sul nostro territorio tutta una serie di iniziative sicure e avere la possibilità di trovare il territorio il più possibile aperto a fare tutte le iniziative che vogliono fare. Cercheremo di fare in modo, anche con l'aiuto dell'APT di Campiglio, di realizzare tante piccole iniziative per cui dare la possibilità a tutti di partecipare e di vivere il territorio e di presentare quella che è un po' tutta la nostra offerta, compresa anche la parte... Queste che miniere sono? Queste sono le miniere di Darzo, in fondo alla Val del Chiese, è un museo messo in piedi negli ultimi anni che sta proponendo una proposta culturale legata al territorio molto interessante e che rappresenta un po' lo sfruttamento che è stato fatto negli anni passati in valle anche... Questo è il forte di Lodrone, il forte Larino, giusto? Certo, c'è una bella proposta culturale che sta nascendo in Val del Chiese che sta trovando nella possibilità di far vedere anche ai turisti un po' tutte le piccole offerte, i piccoli tesori un po' legati alla valle che sono un patrimonio molto interessante da un punto di vista culturale che viene messo a disposizione in questo momento anche un territorio più ampio per cui tutta la valle avrà la possibilità anche grazie alle varie card, gas card trentine o la Dolomit nel nostro territorio avrà la possibilità di sfruttare e vedere tutto il territorio in un'offerta molto più ampia di quella che era prima. Ecco, abbiamo visto l'immagine del lago di Idro, qui stiamo salendo verso le giudicarie, perché giudicarie, centrali, la divisione come? Diciamo, le giudicarie sono un po' tutta la valle che parte da Storo, da Baitoni che arriva a Madonna di Campiglio, perché la Varrendena fa parte delle giudicarie, le giudicarie esteriori fanno parte delle giudicarie, la valle del Chiese è una parte delle giudicarie e le giudicarie centrali sono il territorio insomma legato alla Busa di Tione. La giudicaria è un comprensorio molto più ampio che poi viene diviso in quattro piccoli territori. La Busa è il buco. È il centro delle giudicarie, diciamo. La Busa è il centro. Abbiamo visto anche poi, a parola di offerta enogastronomica, lo chiamate l'oro rosso, perché c'è la polenta di Storo, è famosa da decenni. L'oro rosso, giusto? Perché come fa' se così? Perché l'oro rosso? È perché è un grano particolare che cresce in Val del Chiese, in giudicare anche, e che ha una grammatura, un grado di colore, diciamo, legato nell'essicatura e che dà una farina particolarmente colorata rispetto anche ad altri prodotti. Ed è un prodotto molto 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 particolare che è stato, su cui si è investito parecchio la valle. Ma proprio questo colore, che è un grano normale? È un grano marano, un grano marano che dà questo colore rossiccio. Amaranto, quindi... Esatto. Non è giallo come uno l'abituato a vedere. Non è giallo come... È più un giallo arancione. Allora è vero chiamare l'oro rosso, è vero. Certo. Soprattutto quando, come qui che si vede nelle immagini, una volta le pannocchie, insomma, venivano essiccate al sole praticamente. Oggi chiaramente hanno un procedimento industriale diverso, però il colore rimane ambrato. Ecco, un'altra delle peculiarità di questo bellissimo territorio che stiamo scomprendo un poco alla volta, dalle giudicare, da Madonna di Campiglio, i Dolomiti di Brenta sono il confine, no? Madonna di Campiglio e giudicare c'è di qua e di là. Sì, la catena delle Dolomiti di Brenta separa un po'... Patrimonio mondiale dell'umanità, che è un atto vincente per tutte e due. Dell'umanità, ma poi anche recentemente le Alpi, le Drenzi, per arrivare proprio fino alle Dolomiti di Brenta, anche Biosfera. Quindi questo, come ti è, certificazione, titolo importantissimo, dentro il quale la natura, l'ambiente, ma anche l'essere umano è riuscito a condividere senza incidere in maniera pesante sul patrimonio ambientale naturalistico. naturalistico. Quindi c'è anche questo vicino al titolo dell'UNESCO. Qui abbiamo il confine, ma diciamo che... Ma non c'è confine, perché per la fine... Non c'è confine. Ci sono le aziende per il turismo che hanno delle logiche, diciamo, degli ambiti turistici, degli ambiti, della gestione del territorio, però diciamo, quello che fa il Trentino a livello di turismo è all'avanguardia, perché è portato ad esempio in tutta Italia, anche in Europa, per come sapete promuovere il vostro territorio. E poi ci sono queste immagini che parlano da solo. Tant'è vero che mi ricollego a quello che dici tu. Ci sono dei paesaggi eccezionali dalla Paganella sulla riforma degli ambiti turistici, che è cosa recentissima, come diceva Bertolini. Per quanto riguarda l'altopiano della Paganella, si è allargato con la rotagliana Konigsberg, quindi con la pianura verso la valle dell'Adice, richiamando questo territorio importantissimo sotto il profilo vitivinicolo, quindi agricolo, ma anche culturale e storico. Una volta era collegato, mi avevi raccontato che c'era una funivia che dalla valle dell'Adice arrivava proprio su a fai della Paganella. Esattamente, negli anni 70, fine anni 70, c'era una cosiddetta direttissima, era una funivia, erano solo due cabine, partivano sostanzialmente dall'abitato di Lavis, vicino a Trento, oggi Trento Nord, uscita autostradale Trento Nord, e andava con due tralicci in cima alla Paganella, raggiungeva quindi 2125 metri, partendo da 200 metri. Un salto importante, significativo, poi è stato abbandonato perché la progettualità, visto uno sviluppo dell'altopiano e del sistema di piani della Paganella, in maniera diversa. Quindi con Rotagliana Konigsberg, poi abbiamo, per quanto riguarda il Brenta Meridionale, i paesi di San Lorenzo e Dorsino, che fanno parte oggi del territorio turistico dell'altopiano della Paganella. Quindi anche la Paganella si è allargata, ora, cari amici telespettatori, si allarga la pubblicità. Meno male che ci sono i nostri partner commerciali, ora c'è la pubblicità, ma non toccate il telecomando perché nella seconda parte del nostro talk show andremo ancora a scoprire le bellezze della Paganella di Trento, Montemodone, Valle dei Laghi, Campiglio, Valle del Chiese e le giudicarie centrali. A tra poco, dopo l'interruzione pubblicitaria. mi raccomando. e l'interruzione pubblicitaria. in collaborazione con Valle di Ledro, Trento, Monte Bondone e Valle dei Laghi. Val Sugana. Grazie a tutti.